Buon pomeriggio ai nostri Buon pomeriggio ai cari e gentili telespettatori, bentornati o benvenuti a questo appuntamento di Cusano TV Italia col Te con Te. Buon pomeriggio mia cara Pina. Buon pomeriggio Aurora, buon pomeriggio gentili telespettatori. Questo è il programma, vi ricordiamo dove i protagonisti siete voi, dove raccontiamo le vostre storie, quelle che nella loro semplicità nascondono aspetti e attimi di straordinarietà. E se anche voi volete essere protagonisti di una delle nostre puntate, grazie regia, basta mandare una mail all'indirizzo che vedete teconte.tvcusano.gmail.com Mi raccomando scriveteci perché noi siamo qui ad aspettare soltanto le vostre storie. Iniziamo con gli anniversari del giorno. Nel 622 è iniziato proprio il calendario islamico in connessione alle gira, ovvero l'esodo di Mahometto, assieme ai primi devoti musulmani dalla natia Mecca. Facciamo un grande salto in avanti, andiamo al 1661, quando la banca centrale svedese, la Stockholm Banco, emette le prime banconote. Tuttavia la prima banca che poi iniziò a emettere in maniera permanente le banconote fu la Banca d'Inghilterra, che iniziò nel 1695. E nel 1782 a Vienna vi fu la prima esecuzione dell'opera di Mozart, il Ratto dal Serraglio. Nel 1880 la dottoressa Emily Stowe diventa la prima donna a poter esercitare la professione in Canada. Nel 1945, quindi siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, vi fu il progetto Manhattan. Come ben sapete gli Stati Uniti d'America fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica. E per concludere, restiamo negli Stati Uniti, ma per un altro argomento. Nel 1969, in base al programma Apollo, parte l'Apollo 11, che porterà quattro giorni dopo l'uomo sulla Luna. Ed entriamo nel vivo del nostro programma con la rubrica Ars Vivendi. E proprio oggi parleremo di zoo. Guardate il servizio. Le restrizioni causate dalla pandemia di coronavirus non hanno risparmiato le comunità animali. Migliaia di esemplari ospitati nei parchi zoologici europei hanno dovuto fare i conti con i lunghi giorni della pandemia, insieme agli staff che si occupano del loro benessere. La difficoltà maggiore è consistita nel gestire un'epidemia disomogenea tra gli Stati in termini di gravità e misure di prevenzione tra le autorità nazionali. Le difficoltà economiche sono invece un fattore comune a tutte le strutture europee, che stanno ancora affrontando momenti molto difficili. Allarmante è soprattutto la condizione di fame in cui versano gli animali, rimasti senza sostentamento per la mancanza di visitatori, dettata dalla chiusura necessaria per evitare assembramenti. L'emergenza coronavirus ha compromesso la riapertura stagionale e ha aperto una crisi alla quale le strutture non erano preparate a far fronte. Il mancato incasso, in ragione delle restrizioni governative, ha costretto i responsabili dei parchi a lanciare l'allarme e a fare richiesta d'aiuto alle istituzioni politiche. Per lo zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha adottato una delibera che stanzia 12.000 euro in favore dello zoo attraverso l'acquisto di biglietti d'ingresso. Per la consigliera Sabrina Bocchino, si tratta di un piccolo segnale che dimostra come in Abruzzo nessuno deve essere lasciato da solo in questa emergenza. Il sostegno aiuterà i gestori a mantenere in condizione dignitose gli animali presenti nelle strutture, nella speranza di una pronta ripartenza. Non è la prima volta che la regione si muove a sostegno dello zoo d'Abruzzo. Nelle settimane precedenti erano infatti state organizzate delle iniziative per raccogliere cibo per gli animali del parco e tanti imprenditori del luogo avevano raccolto l'invito ad acquistare biglietti. Quando l'emergenza sarà terminata, lo zoo d'Abruzzo tornerà ad essere un attrattore turistico per le scuole e le famiglie. Infatti, i biglietti acquistati saranno oggetto di una donazione, anche in futuro, alle scuole medie ed elementari della regione. Bene, avete sentito dal servizio quale sarà la tematica che andremo ad affrontare oggi. Vi abbiamo parlato dello zoo d'Abruzzo e noi come ospite abbiamo lui, Roberto Bellucci, che è il curatore di questo parco. Scusate, Renato, non Roberto. Buon pomeriggio, Renato. Grazie per aver accettato il nostro invito. Scusa, ti ho ribattezzato un attimo. Ti dispiace? No, non ti preoccupare. Buon pomeriggio, Renato. Benvenuto. Allora, Renato, dicci un po', abbiamo sentito dal servizio che comunque la ripartenza è dura e tosta, come più o meno in tutti i settori economici, ma noi vogliamo sapere come stanno i vostri animali. Tra l'altro, ti ricordiamo che avete 250 animali di 50 specie diverse. È un parco di 50.000 metri quadri. Esatto, no, ti dico, tutto bene, gli animali stanno benissimo, quindi rassicuriamo tutti, fin dal primo giorno. Noi ovviamente ci siamo mossi in anticipo prima di arrivare a una situazione critica tale che ci permetteva di non gestire bene gli animali. E ti vi ho detto, grazie molto al lavoro delle istituzioni, di tutte le aziende locali, siamo riusciti a mantenere un ottimo benessere a tutti gli animali del parco. Renato, tu hai sempre lavorato in questo settore. Come nasce la tua passione per gli animali? Allora, io ho avuto la fortuna di vivere e crescere con gli animali fin da piccolo. Io sono il figlio del titolare del parco, la mia famiglia ha lo zoo da tanti anni e quindi io sono cresciuto e vissuto qua dentro sempre. E adesso mi occupo della gestione generale di tutti gli animali del parco, sono quindi il curatore generale degli animali. Renato, torniamo un attimo a parlare di questa emergenza che c'è stata. Voi in questi mesi avete continuato ad andare al parco per naturalmente nutrire e dare supporto agli animali, ma come si preannuncia questa ripartenza? Sappiamo appunto che la Regione ha messo, ha fatto questa norma che vi consente appunto un acquisto di 12 mila euro in un certo senso di biglietti. Ma avete già qualche visita in programma o bisognerà aspettare ancora? No, no, abbiamo già riaperto. Ora ti dico in breve come è andato il tutto. Noi dovete considerare che tutti gli zoo sono attività stagionali che lavorano principalmente da aprile fino a settembre-ottobre, quello è il periodo in cui lavorano i parchi. Ovviamente con il lockdown cosa è successo? Che noi arrivavamo già da due mesi di chiusura, perché il parco chiude a gennaio e febbraio definitivamente e riapre a marzo. Purtroppo è arrivato il bellissimo coronavirus che non ci ha fatto aprire neanche a marzo fino a metà maggio, quindi siamo cinque mesi quasi che siamo dovuti stare chiusi. Durante questa emergenza abbiamo lanciato il nostro SOS che avete fatto vedere nel servizio e la risposta è stata veramente incredibile, sia dalle istituzioni, la regione ci ha aiutato con l'acquisto dei biglietti per le scuole, hanno già acquistato 12 mila euro per le biglietti per le scuole che purtroppo verranno però a ottobre o l'anno prossimo, vediamo quando, e hanno sensibilizzato molte aziende locali nell'aiutarci con pieno, frutta, verdura, e devo dire che la risposta è stata veramente incredibile, è stato un bellissimo gesto di solidarietà da tutte le aziende locali, siamo arrivati a un punto che non sapevamo più dove mettere la roba, devo dire la verità. Quindi è stato molto bello, abbiamo riaperto il parco il 26 maggio se non sbaglio, proprio fine maggio, all'inizio ovviamente il pubblico era molto poco, però adesso stiamo cominciando a vedere che le persone stanno cominciando ad arrivare, ovviamente cercano un posto all'aria aperta, in mezzo alla natura, ovviamente il nostro parco essendo molto grande garantisce il distanza. Sì Renato, infatti noi vorremmo sapere quali sono e quante sono le attività che proponete? Sì, allora la visita al parco funziona in questo modo, il percorso ovviamente è pedonale, e noi durante l'arco della giornata svolgiamo delle dimostrazioni didattiche proprio con gli animali, facciamo delle dimostrazioni con gli elefanti, con le giraffe, e in queste dimostrazioni diamo anche la possibilità al pubblico di interagire con gli animali, quindi non sono degli spettacolini, sono più che altro delle lezioni molto confidenziali insieme alle persone, dove li facciamo conoscere gli animali e li facciamo vedere soprattutto il lavoro quotidiano che abbiamo noi dello staff con gli animali, che molto spesso si fa fatica a capire in un parco, allora noi con queste dimostrazioni li rendiamo partecipi proprio. Renato, tu poco fa hai parlato della solidarietà che vi è stata dimostrata dagli imprenditori, ma anche dalle istituzioni della vostra regione, però voi avete fatto altrettanto, perché lo zoo d'Abruzzo ha messo a disposizione, vorreggimi se sbaglio, dei biglietti gratuiti per tutto il personale medico, infermieristico, comunque personale sanitario che in questi mesi è stato impegnato nella lotta, e di questo vi facciamo i nostri complimenti. Complimenti, sì Renato. Grazie, grazie, era il minimo che potevamo fare per ringraziare tutti. Abbiamo attuato questa offerta, questa cosa per tutta la stagione 2020, ma non solo per gli operatori sanitari, ma anche per la protezione civile, per tutti i volontari della protezione civile, perché si sono veramente dimostrati in tutta Italia, noi ovviamente nel nostro piccolo, nella nostra regione, abbiamo voluto ringraziarli in questo modo. Renato, noi siamo venute a Conoscenza, che nel vostro zoo è nata da poco una cammellina bianca, come assistere ad una nascita di una cammellina? Allora, è un evento fantastico, noi abbiamo la fortuna che ogni anno abbiamo varie nascite, ora ve le dico molto velocemente, le ultime dai canguri, gli istrici, abbiamo avuto la nascita dei lemuri, e proprio l'ultima, ultima arrivata è stata proprio bianca, che poi è un cammellino bianco piccolino. Ma bianca come specie albina, albinoide? No, 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 sono, la specie si chiama cammello della battriana, questi cammelli possono nascere, generalmente hanno un pelo che va dal bianco a un marroncino scuro, suo padre e sua madre sono entrambi bianchi, e quindi lei è venuta fuori di un bellissimo bianco, ora questa foto qua che state facendo vedere adesso, era il giorno dopo che è nata, pensate già come era la battra. Quindi è proprio lei? Sì, è la piccola bianca. Sì, sì, è ormai a un mese e mezzo quasi, e sta benissimo, l'ultimo cammello ci è nato circa due anni fa, quindi bene o male ogni due, tre anni un cammellino arriva. E invece Renato, proponete anche delle specie autoctone proprio d'Abruzzo? Sì, allora il parco sta attraversando un processo di evoluzione, questo parco è nato all'inizio con un'altra gestione, dal 2011 ha cambiato la gestione, l'ha presa in mano la mia famiglia, e stiamo riqualificando tante strutture, e lo stiamo anche ampliando, abbiamo acquistato dall'anno scorso altri tre ettari di terra, che sono in fase di sviluppo, ovviamente con questo lockdown i lavori sono andati un po' a rilento, e ci stiamo creando un'area del parco specializzata proprio per le specie autoctone, noi collaboriamo tanto con i carabinieri forestali ovviamente della zona, che hanno un bisogno molto forte di strutture, dove poter ospitare animali non solo sequestrati, ma anche proprio animali autoctoni della nostra regione. Abbiamo già iniziato, abbiamo allestito un polo didattico, dove ospitiamo alcuni rettoli della fauna abruzzese, però più avanti, ora stiamo ragionando proprio insieme all'autorità, a vedere di ospitare anche altre specie autoctone, ma non solo, ovviamente considerate che il lavoro principale dei giardini zoologici, è la tutela delle specie che purtroppo sono a rischio di estinzione, quindi comunque il nostro parco già adesso e continuerà anche nel futuro a ospitare specie che rientrano nei programmi di conservazione. Renato, ma tra questi tanti animali, 250 ricordiamo che avete nel vostro giardino zoologico, ce n'è uno o qualcuno che ti sta particolarmente a cuore? Allora... Hai qualche leone, Aurora? No, ti dico, sai, leoni no, perché i leoni come tutti i felini sono un pochettino, sai... Schivi! Infatti lo stiamo vedendo, guarda, non sarà semplice avvicinarsi. No, allora ti dico, noi avendo uno zoo di modeste dimensioni, abbiamo la fortuna di avere un contatto diretto con quasi tutti gli animali, con una cosa che non è molto facile da vedere in tutti i parti. E nella dimostrazione didattica, ad esempio, che facciamo con gli elefanti, noi ospitiamo all'interno del parco due elefanti, un elefante africano e un asiatico. Questa qui che fate vedere adesso è baby, l'asiatica, e poi abbiamo l'africano. Ad esempio, tra sicuramente i miei preferiti sono gli elefanti, perché sono animali che si costruisce un rapporto personale con loro veramente straordinario, hanno un'intelligenza fuori dal comune e nella nostra dimostrazione didattica il pubblico veramente lo percepisce tanto, oltre ovviamente l'affetto e l'amore che abbiamo noi nei loro confronti, ma nota soprattutto la fiducia che hanno gli animali nei nostri confronti. Invece Renato, per quanto riguarda gli animali esotici, come fate a creare un habitat adeguato? Perché sappiamo che in Abruzzo di esotico c'è ben poco. Sì, allora, considera che l'equip del parco è formata da varie figure, oltre ovviamente a noi che ci occupiamo degli animali in maniera diretta, con noi collaborano oltre che i veterinari, ne abbiamo ben quattro, e poi abbiamo degli esperti che lavorano solo nella costruzione degli habitat e degli exhibit insieme agli etologi che studiano il comportamento degli animali che dovranno appunto vivere in quegli habitat. Quindi un po' attraverso vari... Ovviamente sai cos'è? Il discorso è molto ampio, dipende dalla specie, dipende da che... Renato, io starei ore e ore ad ascoltarti, perché gli animali sono la mia passione. Lei infatti, devo dire, che era veramente... Entusiasta. Non era nei suoi panni per questa intervista, come ha iniziato a vedere le foto del vostro zoo, c'era un commentino... Non faccio altro che guardare i documentari. Sì, è vero. Mi piace, mi piace tanto ascoltarti. Quindi, dicevamo, in merito agli animali esotici, l'adattamento non è semplice. Non è semplice, c'è un lavoro molto lungo, ci vogliono tante persone che abbiano competenze, ognuna che si occupa di varie cose, dal comportamento, al benessere, ovviamente a tutti gli aspetti. Anche bisogna... Ogni specie ha delle peculiarità diverse. Quindi, quando si creano degli exhibit, non è facile, però anche in Abruzzo ci si riesce. Anzi, devo dire l'Italia, l'Abruzzo è una regione per questa fantastica. Noi ci troviamo in uno dei piccoli polmoni verdi italiani. Quindi, qui, a creare degli habitat, abbiamo un clima anche molto favorevole e anche abbastanza semplice. Renato, poi noi sappiamo che la vostra è una struttura giovane, anche tu sei giovanissimo. Credi che negli ultimi anni, soprattutto tra le generazioni più giovani, ci sia stata una riscoperta dell'interesse verso gli animali? Forse prima erano un po' lasciati a sé, non credi? Sicuramente maggiori tutele, soprattutto. Io mi auguro che questa cosa aumenti. Cioè, nel senso, fino a 4-5 anni fa, anche meno, era veramente molto il distacco. Le persone, di cosa io mi stupivo, ovviamente io crescendo con gli animali, forse lo capivo poco, di come la gente si strabigliava di vedere, che ne so, anche una gallina, una pecorella, io non dico un elefante, ma anche un semplice animale della fattoria, perché ormai i bambini hanno un totale distacco da questi animali. A meno che non si ha qualche animale domestico, cane e gatto, è difficile che i bambini riescono ad approcciarsi con altre specie. Sai cos'è il problema, però? Che il cane e il gatto sono ovviamente, essendo animali prettamente domestici, che ormai purtroppo vengono, tra virgolette, umanizzati, quando poi si ha a che fare con un animale vero, ovviamente, ora io cerco di farla in breve, però quando incomincio a vedere determinati comportamenti di un animale, molto volte vedo la gente che si strabiglia e anche che non pensa e non arriva a certe cose, quindi noi molto spesso, quando viviamo e parliamo qua nel parco insieme alla gente, dobbiamo anche spiegargli le cose basilari, come ad esempio che se un rinoceronte fa la cacca, bisogna lasciarla lì e non bisogna andarla a pulire, perché sennò non si arrabbia, e molte volte la gente dice, ma come? Eh ma la cacca in quella posizione per lei è fondamentale, per il predominio e per quell'habitat, quindi ci sono delle cose, ovviamente anche magari che non si sanno, però che la gente, io spero che con l'andare degli anni, i bambini frequentino sempre di più le aree naturali. Ma tra l'altro, hai visto che hai nominato i bambini, anche il progetto del comune è indirizzato a loro, la maggior parte dei vostri visitatori, sono bambini o ci sono anche degli adulti? Sono generalmente le famiglie con i bambini piccoli, fino ai 5-6 anni, però una cosa te la devo dire, abbiamo notato adesso con questo lockdown, che da quando abbiamo riaperto, molto probabilmente anche perché la gente forse non sa neanche dove andare, tantissime coppie di ragazzi giovani, bambini che prima raramente vedevamo al parco, si stavano avvicinati allo zoo, molto probabilmente anche come meta che non pensavano di venire a visitare, però avvenendo si sono resi conto di come sia, oltre che bella la struttura, di stare bene in mezzo alla natura. Quindi in Italia c'è, rispetto un po' agli altri paesi europei, diciamo da un pubblico di una certa età, dai diciamo 18-20 anni in su, non si va a vedere al parco, lo zoo viene interpretato solo come un luogo dove portare i bambini piccoli a vedere gli animali e basta. Renato, io vorrei farti un'ultima domanda, è una mia curiosità, ma è sempre andato tutto liscio in questi anni, o ti è capitato di assistere a qualche animale che si è infastidito, a una specie di aggressione? Cioè è successo qualcosa che ti ha mai fatto pensare basta adesso mollo tutto e vado anch'io in un ufficio come tu te? Beh, non proprio così, ma se qualche rapace ha mai provato ad aggredire per esempio? Allora no, non ho mai pensato di abbandonare questo lavoro perché ovviamente... Anche perché non lo faresti mai, è un lavoro bellissimo. Se uno chiama gli animali è il lavoro più bello. Qual è la parte più bella del lavorare con gli animali secondo te? Innanzitutto non è mai uguale, è sempre diverso. Poi a lavorare con gli animali è un insegnamento continuo. Sai, quando si lavora con certi animali, non esiste un libro che ti insegna come lavorare con questi animali. È una esperienza... Li vivi, li studi proprio sulla tua pelle. Sul campo, esatto. E quindi è straordinario perché questo rapporto che instauri con loro, lo devi mantenere di giorno in giorno. Ed è sempre diverso. Gli animali ti propongono sempre anche nuove sfide, anche problemi, come hai detto te, non dico che è sempre rose e fiori, capita che alcune volte dobbiamo intervenire, oppure abbiamo, che ne so, animali che possono star male, o animali che sono un po' più aggressivi. Ovviamente, la bravura del personale sta proprio a cercare di aver il meno possibile questi problemi. E quindi dobbiamo cercare di essere bravi a mantenere gli animali, che vadano d'accordo, eccetera. Vedi in questa immagine, noi abbiamo molti exhibit dove convivono più specie insieme, come viene in natura. Questo è uno degli exhibit della zona africana, dove c'è il rinoceronte con gli antilopi, le zebbre, il vatusso, le capri africane, eccetera. Questo ad esempio è un exhibit che bisogna avere molta attenzione, perché ad esempio le zebbre, essendo animali molto territoriali, sono animali che vanno gestiti bene. Però non lo cambierei con nessun lavoro al mondo. Renato, fai uno dei lavori più belli del mondo. Complimenti e grazie per aver accettato il nostro invito. È vero, Renato, grazie per averci fatto scoprire questo mondo davvero bellissimo e affascinante. Grazie in bocca al lupo a te e a tutta la tua struttura per tutto. Ciao Renato. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Bene, dopo questa prima intervista dove abbiamo scoperto il mondo animale, è arrivato il momento di viaggiare, ma prima... Breve pausa, pubblicità. ... Gentili telespettatori, ben ritrovati. Io e Aurora siamo pronte a fare il giro del mondo. Sì, ma adesso prima di andare appunto a vedere dove andremo oggi con la nostra rubrica Expat, vediamo quali sono le ultime notizie in questo servizio. I casi di contagio da coronavirus nel mondo sono oltre 13 milioni e 575 mila, i deceduti sono oltre 584 mila. Il governo federale tedesco è favorevole a ricorrere a lockdown circoscritti alle aree colpite dai focolai di coronavirus. Si tratta di organizzare il più velocemente possibile dei test di massa nei luoghi interessati da nuovi focolai. Intanto le infezioni registrate in Germania hanno superato quota 200 mila. In Francia il decreto che rende obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi chiusi entrerà in vigore la settimana prossima, dunque prima di quanto previsto inizialmente dal presidente Emmanuel Macron. Ha riferito così il premier Jean Castot durante un intervento al Senato di Parigi. Prevedevamo un'entrata in vigore di queste disposizioni il primo di agosto. Il premier francese Castot prevede per il 2020 la peggiore recessione dalla creazione dei conti pubblici della Francia. Nuovo picco di casi in Israele. A fronte della situazione sempre più seria, il premier Netanyahu ha convocato un'immediata riunione di emergenza per nuove misure. Record di morti e di contagiati in Argentina nonostante le strette misure di lockdown disposte dal governatore Alberto Fernandez. Attualmente l'Argentina è il sesto posto in America Latina per numero di contagi. In Russia superati i 750 mila casi di contagi. Il numero di casi di coronavirus in Sudafrica ha superato la soglia dei 300 mila. Deceduta oggi la figlia di Nelson Mandela era positiva al Covid-19. Intimidazioni e persecuzioni e danni degli operatori sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia di coronavirus e che esprimono preoccupazioni o criticano il governo per la gestione dell'emergenza sanitaria. Accade in Egitto e Amnesty International chiede al governo di interrompere subito questa campagna di terrore. L'Organizzazione per i diritti umani spiega in una nota di aver documentato il modo in cui le autorità del Cairo stanno ricorrendo ad accuse vaghe e generiche di diffusione di notizie false per arrestare arbitrariamente e imprigionare operatori sanitari che hanno preso la parola sottoponendoli poi a minacce, intimidazioni e provvedimenti amministrativi punitivi. Le persone prese di mira denunciano condizioni di lavoro insicure, assenza di dispositivi di protezione individuale, inadeguata formazione all'individuazione dei contagi, insufficienti mezzi per testare il personale sanitario e mancato accesso a cure mediche vitali. E noi oggi andremo in Egitto per presentare la nostra ospite, lei è la signora Francesca Minotto, pensate, ha 77 anni ed è originaria di Milano. Buon pomeriggio signora Francesca! Buon pomeriggio a voi! Buon pomeriggio Francesca, grazie per essere con noi! Grazie a voi! Ho sentito, è proprio brava! Grazie! Signora Francesca, ma lei da quanti anni vive in Egitto? No, è da 34 anni che vivo in Egitto e sono contenta, ho la mia vita, la mia famiglia e vivo bene, insomma. Signora Francesca, lei è partita, diciamo, alquanto giovane in Egitto, però aveva già un matrimonio alle spalle. Ci può raccontare bene la sua storia, che è molto interessante? Allora, io sono nata in tempo di guerra, poi ho lavorato con mio padre in gioelleria, in argenteria e scultura e intanto viaggiavo perché a me piace sempre la pittura, dipingere e disegnare. E allora lavoravo un po' con mio padre e poi scappavo per l'Italia per dipingere. Signora Francesca, come era l'Egitto negli anni Sessanta? Era molto diverso, adesso è più... Moderno? Più moderno e più aperto. Prima era più chiuso, anche le donne erano più, diciamo... Indossavano il velo? Sì, ma anche adesso portano il velo, però... Prima non erano così emancipate, diciamo. Ma lei come ci è arrivata in Egitto, questo suo secondo marito, come l'ha conosciuto? Io il secondo marito l'ho conosciuto in Egitto, però non avevo nessuna intenzione di rifarmi la vita. Allora lui ha continuato a venire avanti e indietro a Milano, finché a Milano ci siamo sposati. Abbiamo vissuto sei anni a Milano molto bene di pittura, di arte, solo che mio suorcio continuava a piangere perché ci voleva vicino. Allora, sai, ho fatto baracca e baraccini... E via! Ho preso un bel container che ha preso la mia casa e l'ha depositata sotto la casa di mio corpo. E la sua famiglia, che cosa ha pensato i suoi genitori quando lei è andata in Egitto? Comunque negli anni Sessanta, cioè stiamo parlando di tutto un altro mondo, adesso magari è più accettabile che le donne partono, si sposano, si spostano. Ma negli anni Sessanta come hanno raggito? No, no, hanno raggito molto male e non volevano più sapere perché loro pensavano che io sarei andata a finire male perché allora si parlava dell'Egitto di una cosa troppo chiusa e poi anche anche come religione, come tutto. Invece io quando sono arrivata ho trovato... ho perso in un certo senso per un po' di tempo i miei genitori e ho trovato dei genitori arabi meravigliosi. Eh sì, perché la gente araba è davvero molto affettuosa, quindi lei si sarà trovata subito bene, ben accolta. Sì, sì, poi diventavo matta perché era un Egitto ancora delle persone, dei personaggi e allora io continuavo a dipingere e di fatti sono arrivata nel... come si chiama? Nella prima cittadina del Meridione, perché io sono arrivata in Meridione e oramai mi conoscevano tutti come la pittrice, disegnava e poi ho conosciuto gente molto strana e a me queste cose piacciono da morire. Eh certo, questa è la bellezza di questo mondo. Signora Francesca, lei ha fatto la pittrice, la gioiellela, ci ha fatto una serie di lavori e adesso però alla venerante età di 77 anni sappiamo che scrive un blog. Sì, sto scrivendo un blog. Lo facciamo vedere anche mentre chiacchieriamo, chiedo alla regia di assistermi così scorriamo nel frattempo qualcuno dei tuoi articoli. Va bene, perché sono rimasta vedova per la seconda volta, i miei figli lavorano e io sono sola, allora ho pensato bene di scrivere, non il diario perché il diario è pesante e così. Quello che mi veniva in mente ogni tanto perché i miei figli ricordino le esperienze che hanno fatto con me e nello stesso tempo spero di poter vedere anche i miei nipoti e se no che i miei nipoti ricordino anche delle cose che magari in Egitto stanno scomparendo. Signora Francesca, ma lei quanti nipoti ha? Come? Quanti nipoti ha? No, non ho nessun nipote adesso ancora, spero che arrivino il più presto. Complimenti signora Francesca perché lei si è adattata proprio alla tecnologia, è una donna all'avanguardia. No, bisogna un pochino come quando anche in Egitto, bisogna in qualsiasi nazione, bisogna spogliarsi un pochino del vestito italiano e nello stesso tempo incominciare a vivere, a vivere nel posto. Allora si può capire, io adesso per esempio amo moltissimo l'Egitto, mi ha dato tanto. E che cosa ama di più dell'Egitto? Ma direi che amo la bellezza dell'Egitto, è una terra che ha vibrazioni particolari, che bisogna conoscerla bene perché il turista avviene cinque minuti e poi passa da un'altra parte. Invece bisognerebbe che le agenzie facessero un programma, non che questo, questo è il mio pensiero, che facessero un programma più semplice e nello stesso tempo facessero conoscere la vita dell'Egitto. Perché è comodo vivere in albergo e poi andare fuori e magari lei vede questo poveretto che è mezzo… Bene, i luoghi più belli da visitare poi sono i souk, la medina, proprio i luoghi tradizionali. Signora Francesca, ma se noi domani, se io e Pina domani venissimo in Egitto, dovessimo partire per l'Egitto, lei dove ci consiglierebbe di andare per scoprire la realtà di questa cultura, per scoprirla pienamente? Guardi, adesso come adesso è lo Stato ha aperto l'UX, però io sinceramente le dico la verità, siccome qui che io sono nel primo paese del meridione, abbiamo 40 all'ombra, in, come si dice, a l'UX è molto di più, perché a l'UX bisognerebbe andare in dicembre, quando è più, la temperatura è più… Sopportabile. Signora Francesca, ma lei l'arabo l'ha imparato con facilità? No, no, cioè io sono partita dall'Italia che non sapevo proprio niente, perché abbiamo deciso così di partire, perciò l'ho imparato, ma mio marito non aveva il tempo di insegnarmi perché ha aperto un ristorante arabo, e allora io l'ho imparato così parlando e facendo anche delle gas tremende, e solo che i miei concittadini, devo dire la verità, mi hanno sopportato un pochino. Signora Francesca, ma solo sbagliando si impara, comunque noi la ringraziamo tanto per essere stata ospite qui al nostro tè. È un immenso piacere, un'immensa storia ci ha raccontato. Sono contenta di oggi. Chokran, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie signora Francesca, buona fortuna per tutto. Grazie, arrivederci. Bene, adesso dopo questo piccolo salto nel mondo egiziano, la nostra rassegna stanca. La prima notizia apriamo con gli esteri perché pare che le Barbados offrano di andare a lavorare lì. Venite tutti a lavorare in smart working da noi. Aurora, noi ci penseremo. Beh, questa è la super offerta che arriva dalle Barbados, dove il turismo, che di norma rappresenta circa il 40% del PIL, è a picco a causa del coronavirus. È così che la premier del piccolo stato legato al Commonwealth ha annunciato questo programma, che si intitola Barbados Welcome Stamp, che deve essere finalizzato ancora dal governo, ma che sarà più o meno così. Gli stranieri potranno ottenere facilmente dei visti di addirittura un anno per lavorare da remoto dell'azienda del proprio paese. Così, secondo la premier, questo unirebbe l'utile al dilettevole, perché si potrebbe continuare a lavorare, ma allo stesso tempo apprezzare le bellezze dei paesaggi locali in un luogo dove di solito si va per poco tempo, quindi ci si riesce a godere davvero ben poco. A chi arriverà sarà richiesto semplicemente un certificato, realizzato nei tre giorni precedenti, che dimostri di essere negativi al Covid-19. Quindi, se siete smart working, pensateci. E ancora coronavirus, sì, perché pare che il lockdown abbia rinsaldato i legami nel nucleo familiare, però cresce la paura della crisi. Eh sì, quasi un nucleo familiare su tre ha paura di perdere il lavoro e di vedere peggiorare la propria condizione economica. Tuttavia, la campagna Io resto a casa ha funzionato, almeno per le coppie e per il rapporto con i figli. E questa è la bella notizia che vi vogliamo raccontare, perché il lockdown che ci ha chiuso in casa nelle nostre quattro mura domestiche, perché pensate che, secondo uno studio o una ricerca, ha rafforzato le relazioni affettive nell'87% dei casi. Beh, quindi dovremmo affrontare una crisi economica, ma l'importante è che abbiamo vicino le persone a cui vogliamo bene. E andiamo avanti, una notizia che scalda i cuori, perché pare che dall'Ecco a Catania un peluche abbia vissuto una seconda vita, ma attraverso l'appello fatto su Facebook della piccola Maria. Allora, questa è una storia un po' tra virgolette travagliata, e la racconta Stefania Testa, che è stata appunto la protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà. Questa signora, Stefania Testa, è la mamma, è una mamma siciliana, che su un gruppo Facebook, io resto a casa, ha scritto un appello, perché ha chiesto aiuto per ritrovare un gattino di peluche che la figlia Maria ha perso durante un ricovero a Roma, un mese prima che scattasse il lockdown. Il punto è che questo peluche, questo gattino di peluche, era un regalo del papà che non c'è più. A questo appello ha risposto invece una signora della Lombardia, che aveva un po' pazzetto simile, che l'aveva regalato a sua figlia, che però ormai era diventata adulta. Quindi, dopo un bel trattamento di bellezza, hanno deciso di prendere questo gattino e spedirlo a Catania. Quando la signora Lombarda l'ha comunicata alla figlia, anche lei era molto contenta che una bambina potesse ritrovare il sorriso grazie a questo gesto. E la signora che cosa ha raccontato la signora Lombarda? Dice, io sono un'operaia e non posso permettermi di fare beneficenza purtroppo. Così, voglio pensare che questo gatto vecchio e spelacchiato possa in qualche modo far sentire il suo papà ancora vicino alla piccola principessa di Catania che l'aveva ricevuto il regalo e che adesso può tornare a sorridere e dormire serenamente. E per l'ultima notizia ci spostiamo negli Stati Uniti e parliamo di videogame, perché uno dei videogame più amati di sempre ha fatto registrare un nuovo traguardo in Texas. Stiamo parlando di Super Mario. Dopo 35 anni dall'esordio, Super Mario Bros. continua a registrare nuovi record. Pensate che una copia della storica avventura dell'idraulico italiano realizzato da Nintendo e lanciato sulla console NES nel 1985 è stata venduta per la modica cifra di 114 mila dollari. L'acquirente è riuscito ad accaparrarsi, pensate, una prima edizione rarissima in condizioni praticamente perfette, superando anche il record di 100 mila dollari che erano stati spesi nel passato sempre per un videogioco e sempre per Super Mario. E termina qui la nostra rassegna stanca, però prima di salutarvi vogliamo ricordare gentili telespettatori che qualora volessero raccontarci la propria storia potranno farlo scrivendo a teconte.tvcusanochiocciolagmail.com Grazie regia. E adesso ci colleghiamo con il celeberrimo poeta. Flavio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi ragazze. Flavio, ogni giorno troviamo un aggettivo più bello per te. Sei contento? Troppo gentili, grazie. Che cosa ci leggi oggi? Oggi vi leggo i versi di una poetessa contemporanea, Federica Gallotta. Leggo dalla raccolta Modi Indefiniti. Vai Flavio. Come sarebbe la mia vita se non fosse questa vita, ma altre mie vite non vissute o vissute altrove? Come felice sarei o infelice se non vivessi la mia vita, ma qualche altra vita che esiste c'è se non esiste questa, la mia. Ma chi ha deciso, nell'antologia del possibile, che fosse proprio questa e non un'altra, dove io magari non ci sono nemmeno? Asimmetrie inesatte, voto la mia pena. Tendo all'alto, ma stramazzo sfinita a terra, quando conferma della mia ragione, dandoti colpe non a torto. Trista è questa condizione di cassambra, che non vorrebbe più credere in se stessa. Bravo Flavio, bravissimo Flavio. Davvero, come sempre, sembriamo anche scontati a dirti sempre le stesse cose, però è vero, ci fai emozionare ogni volta. Grazie Flavio, ci sentiamo domani. Domani, grazie. Bene, e per oggi diciamo che è tutto. Noi vi aspettiamo domani puntuali sul 264 alle 17.05, ma voi ricordate di essere gentili sempre. A domani. Ciao. Grazie.